Benvenuti a Ombra su Immortals Fenix Rising, episodio numero 28, in quello precedente dove non chiedetemi di fare un riassunto perché sono successe un sacco di cose, comunque abbiamo scoperto intanto che siamo una divinità e soprattutto che siamo i figli di Zeus e adesso a quanto sembra lo stiamo andando a salvare perché Tifone l'ha trascinato qua nella sua cripta insieme anche a Ligirone insomma, comunque se vi siete persi quello precedente mi raccomando andatelo a recuperare il link come al solito ve lo lascio qua nelle schede Dunque, iniziamo subito la nostra cripta di Tifone e sarà senz'altro... Ehi! Qualcuno riesce a sentirmi? Hermes! Avrò dite! Nessuno! Senz'altro una bella sfida, anche perché mi sembrava strano di aver liquidato Tifone in maniera piuttosto veloce e semplice direi Non ci ha sostanzialmente quasi mai toccato Comunque vedo diverse strade, allora lì abbiamo la porta Ah, comunque ci sono questi cristalli qua che probabilmente si dovranno accendere Per far sì che la porta si apra, non lo so eh, vado intuito ma altrimenti queste zone di qua non servirebbero a nulla Quindi diamo un'occhiata Bene Centrato in pieno Perfetto Andiamo anche un po' più avanti di qui Che bello questo gioco ma che bella la trama ragazzi, veramente bellissima Tanti colpi di scena Fuoco Vediamo No Ah Non avevo visto che c'era il bulbo Ok La stessa cosa suppongo ci sarà dall'altra parte Vediamo se qui c'è ancora qualcosa No Là ho visto anche un fascio arancione prima Quindi me ne devo ricordare Ah cacchio C'è la corrente Uh C'è la corrente Bellissima anche la musica In generale del gioco Mi piace veramente moltissimo Beh questo Questo sarà l'episodio penso finale È l'ora della verità Ok Ehi Ehi Pieno Ma c'è modo di cambiare La corrente Forse sì Oh mio dio così lontano Non lo so Proviamo Magari non è da fare Però Ecco Non sapevo No è perché non riesco A spostare questa Me la spingio contro il muro E io la devo portare lì Ah Oh mio dio Ecco Mi sembrava troppo lontano Quello di là Adesso va bene Qui Giù Ok Ne mancherà uno Penso Comunque di là Già Ho visto cose Mi sa che c'è un percorso Da fare Non c'è subito Tifone Guardate là Ok Vabbè questo va spinto Si aprirà la porta al centro E poi si proseguirà da lì Presumo Ok Bene Vabbè ecco Direi che non era complesso Vediamo il resto però La cavalcatura mi piacerebbe Ma no Qua non si può Io mi aspetto Un aiuto Un aiuto dagli dei Prima o poi Perché Cioè Dannazione Li abbiamo salvati apposta Fino ad ora Ci hanno solamente aiutati Con Arco Giuda Con la strada Nel picco del re E basta Ci hanno acceso Cioè hanno acceso qualche fuocherello E nulla di più Quindi Mi aspetto un aiuto Più sostanzioso Cavolo Cavolo Vorrei recuperare un attimo la vita E non perderla Come ho fatto adesso Prendere questi qui In testa Non è facile Tutto a fare No Volevo provare a parare Dai Prendiamo Ecco lui Va là Che c'è una testa Bella grande Così Boom Eh però Sto uccellaccio Togliamo di mezzo Sto grifone E ne dite Beh Sì l'ho capito Ma te Mi becchi sempre Fisso Anche se scatto Niente Lui mi becca Eh E sarebbe Beccati questo Tra l'altro Posso utilizzare Le frecce In questo modo Così faccio meglio Molto meglio Non si ghiaccia Sì si ghiaccia Tacci loro Ecco Paparino dietro Eh Bravo Bravo Mi becchi ok ce ne è ancora? dai forza no? va bene il fatto che io abbia poca vita rende il tutto più interessante no? in un bel ascensore via c'è il laser questi li possiamo spingere ah ok penso di aver capito non ho capito no? perché non ci arriva lì vediamo ah c'è l'altro di qua fino a qui è chiaro probabilmente devo cambiare anche il vento allora dove è falso però? ah beh così così non dovrebbe rompersi giusto? giustissimo e adesso questo qua lo rimetto di là a posto bene che è successo? si è tolto il laser e va bene ah perfetto vai 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 no morco il tuo demone va bene ce l'ho salvato fosforino vabbè qui dobbiamo volare lì cambiamo qua qui c'è anche il forziere ne vedo più di uno due tre quattro vabbè riusciremo a fare tutto in questo episodio? mi devo impegnare e e e e e ovviamente ci sarà anche lo scontro quindi va bene allora abbiamo due di queste di queste attacchiamo questo qui cambiamo vediamo un po' mmm non so se il filo sposta anche no non lo sposta come si fa a romperla? così e o devo interrompere tipo adesso ah beh no si sposta del tutto forse così forse devo tappare questa bocchetta d'aria vediamo eh no però perché dopo ecco qua cosa ci metto diceva per forza uno pesante a meno che non ce ne sia un altro ma non c'è ne abbiamo due quindi questo qua di sicuro mi serve anche dopo no qua si rompe ecco demonio e opa eh se io adesso apro qui lo tolgo questo mi viene a sbattere qua giù dov'è ok no non ha preso il via c'è ancora questo nel mezzo non ci passa guardate troppo presto eh no ma soltanto ehm non lo sto facendo bene ah aspettate un po' la facciamo questa adesso va qui e poi va lì ok mi è venuto in mente subito dopo allora farla andare lì come facciamo bisogna portare questo di qua spero di non metterci troppo ma e gli enigmi sono sempre belli tosti facciamo così adesso quello va lì poi io cambio la corrente teoricamente siamo a posto quello là ah oddio quello là si muove dopo no dovrebbe essere a posto giusto non è proprio non è propriamente a posto spostiamo questo se ci passa vediamo ok ci penso io dobbiamo tenerlo fermo altrimenti si spostano lo metto di qua ci siamo e ora dov'è che è ok ci siamo devo mettere ah beh giustamente devo mettere quello la corrente adesso è di là quindi se io tolgo questo quello lì si sposta o no non riesco a capirlo oh non si sposta non si sposta perché la corrente sta andando di là ok allora non c'era bisogno di fare così eh vabbè comunque teoricamente la freccia è di là quindi la corrente andrebbe spingere così vabbè non ci facciamo domande metto questo qua e andiamo avanti e lì c'è il forziere vale forziere frammenti l'ultima cripta io mi aspetto anche un bel pezzo di equipaggiamento un qualcosa noi tra l'altro siamo equipaggiati con l'armatura di tifone quindi dovrò andare avanti di qua tornare indietro direi avanti co demonio è perché stavo guardando se c'era qualcosa qua ma sembrerebbe di no non sembra un posto in cui ci devo venire maledizione va allora vabbè lì comunque bisogna dare fuoco qua però no secondo me sto sbagliando strada cioè qua bisognerà venirci dopo non so perché siamo qua su altrimenti voi da qua ma devo andare giù non sto capendo sono sincero un po' confusione un po' fermi qua siamo all'inizio va bene ok un po' alla volta un po' alla volta ce la faremo e non riuscivo proprio a capire dove dovevo andare siamo andati di qua ah perfetto quindi quella zona là è finita perché lì c'è il cristallo attivo quindi dovremmo andare penso avanti a questo punto cioè da un'altra parte ovvero qua sulla destra o anche sulla sinistra abbiamo quattro cristalli da attivare quindi presumibilmente ci saranno altre quattro zone con enigmi da non sistemare liquidiamo questi ma basta guarda questo qua con un nulla di vita sopravvive ah dai ma basta fail il muto lì sotto ciao al posto ah si ok visuale cambiata si è alzato un qualcosa il primo altare o quello che è insomma per salire lassù la prima scalinata andiamo di qua quattro zone eh sarà lunga però a costo di farlo più lungo l'episodio ragazzi staremo a vedere staremo a vedere per il momento 20 minuti eh insomma vediamo dipenderà da quanto sarà complicato finire questa zona qui e le prossime allora qui naturalmente non possiamo scendere fino a che non avremo rimosso sta cosa qua sta nube tossica qui c'è quello c'è un bracere qua ah la palla è già invocata perfetto allora quindi la posso tirare qua non ci passa ok vediamo anche questa e siamo a posto perfetto ci siamo buca vai eh beh qualcosa è successo ovviamente ma se mi hanno tolto questa nube significa che devo fare qualcosa qua in basso oppure oppure no 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 era solo per sbloccare questa piattaforma va bene ok let's go non c'era un forzio qua vero perché ma come l'impressione ce ne sia uno in ognuna di queste quattro zone ma se mi dice così tutto mi fa pensare che poi arriverà qualcuno ad aiutarci tutta sola vabbè possiamo fare con questa palla qua la devo portare ah beh non l'avevo mica visto che sotto era aperto ok vieni qua si può cambiare la direzione di essi c'è c'è eeeh peh ah la devo anche incendiare non arriva oddio non ditemi che si è incastrata da qualche parte e non si resetta vabbè ah adesso è respawnat e come mai e come mai beh beh fermata in tempo adesso stai buona lì no non ci sta ferma ah ok adesso adesso si è fermata andiamo qua se la tengo probabilmente riesco a non farla saltare via ma non capisco dove la devo portare ah ho capito qui c'è la rampa cambio la corrente poi salta la dentro ci sono più è farlo ci arriva da qui si ma no cacchio devo cambiare no devo cambiare la corrente prima porco demonio non so se faccio in tempo si eh no ho preso ah ho preso poco slancio torna qua maledetta ops ah che macello è facile ma mi sto impappinando allora devo riportarla di qua se me lo permette non sembra collaborare molto no perché c'è l'aria che me la spinge dentro ok per malì bene adesso ma come faccio a tirarla di là così vai cari cari e colpire oh alleluia non era difficile cioè avevo capito quasi subito no beh in realtà non proprio subito però ce l'ho arrivato via ci servivano ancora no ah si no no beh e anche questo è fatto questo ok altra sfida e poi mi sa che ragazzi interrompiamo eh non si arriva mai al dunque ma io preferisco fare così avevo detto sì che anche a costo di fare un episodio lungo volevo finire ma questo metodo l'ho già adottato altre volte quando la critta era parecchio lunghetta vuoi fare a chi viene più forte no chiedo ho preso tutti forche lui bene quali abbiamo attivato quelli là ma quei due le ho no vabbè questi me li mangio ragazzi sono scars ok chissà se abbia mancato un forziere speriamo di no allora qua da dove siamo venuti dico bene sì abbiamo attivato questo e questo esattamente ok sto guardando se ho dimenticato forzieri ma sembrerebbe di no c'è uno di là e poi non ne vedo altri vabbè uno lì uno là con queste torri alte quindi qui non c'era niente spero perfetto ragazzi allora per questa prima parte della cripta di tifone è tutto ci rivediamo con la seconda quindi mi raccomando spodichate commentate iscrivetevi attivate la campanellina tutti i link direttamente i miei social li trovate qua sotto nella descrizione noi come sempre ci rivediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.